musica 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 bella madonna che roba oddio ti prego usami come bilanciere sollevami bella patonzo ehi bella ti va di conoscermi ma hai visto? cioè ha rifiutato anche lui siamo rimasti solo io e te in questa palestra rifiuta tutti lei cerca un vero uomo uno che la sorprenda che la lasci senza parole omi ti ha un'idea la invito a fare un aperitivo in terrazza martini la fiera della banalità proprio ma che aperitivo di più più originale più frizzante di più non so cosa fare io non ho mai rimorchiato nessuno nella mezza aiutami mimetizzati e fingiti una panca come scusa? tu non sei bello sei simpato no? invece di fare gli scherzi cosa facciamo? ti metti una bella tuta nera dalla testa ai piedi dopo di che ti sostituisce la panca fai finta di essere la panca lei si siede la prendi e fai sorpresa sorpresa e poi lei oh grandissimo allora vado di la e mi metto una tuta aderente nera vai così vai così vai così oh scusa cioè mi fai finire l'ultima ripetizione poi ti libero la macchina scusa mi certo gentilissima grazie 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 hanno imbottito il sedile si vede allora hai visto il tipo pervertito? sì un pazzo fortuna che al mondo ci sono ancora dei ragazzi normali tipo me piacere Jacopo e Roberta ti vado ad andare a fare un aperitivo insieme? ok eh? pezzo di nerd che palle non riesco a rimorchiare nessuna ragazza e ci credo sei una scamorzina alle donne piacciono i pompati e ho capito chi non lo è come fa eh? vai come me costume di Batman con pompatura rigorosamente nascosto e bilanciere finto oh è gelissimo senti una piuma hai visto Jay? sono fortissimo chi è stato rubare il costume di Batman con pompatura finta mio figlio? chi è stato? è stato lui si ti spacco giuro che ti spacco guardare c'ho buongiorno signorina e benvenuta nella nostra palestra adesso ti illustrerò tutto quello che c'è grazie allora guarda a tua sinistra abbiamo i nostri tapirulan bellissimi iper accessoriati iper tecnologici mentre invece a la tua destra abbiamo la sala attrezzi e la sala pesi bellissima poi abbiamo la sauna il bagno turco tutto di tutto di più è tutto perfetto grazie mille ah figuro ti guarda puoi sempre contare su di me da oggi sarò il tuo personal trainer no scassa minchia usciamo insieme se sei parto ti prego ti prego ti prego ti prego no amore mio mamma mia che vitellone scorda che lo rovi è troppo fisicato per te forse non avete ancora capito chi sono io è convinta la ragazza ciao bellissimo ciao mi ha piacere roberta ti andrebbe di andare a bere qualcosa guarda io dovrei già uscire con l'altra ragazza il trans come? no si la ragazza di prima non lo sapevi è stata operata l'anno scorso si chiamava franco davvero? si ma ci sta che uscite insieme sei un ragazzo molto coraggioso ah io non lo sapevo però se vuoi potremmo uscire a bere qualcosa di te oh sicuro? beh ma no perché no e adesso bel manzone portami nel luogo più adatto a me oh dell'immondizia ma chi ti credi? io volevo farmi Giulia ciao ehi tesoro piacere ma ciao tesoro dai un bagno turco insieme niente tra poco ci respingeranno anche gli attrezzi già rimorchiare senza essere pompati è impossibile non proprio cioè? ragazzi a me per rimorchiare basta poco la pelata e questa eh si Mastro Linda Mastro Linda Mastro Linda Mastro Linda con la pelata la gnocca è assicurata ah finalmente adesso una bella sauna speriamo di incontrare qualche bel ragazzo oh hai sentito? che cosa faccio? dai dai nella tua grande occasione vai insieme vai in sauna si ci provo mi spoglio tutto e me la faccio subito vai 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 ehi ho sentito quello che hai detto prima che volevo un bel maschione? eh no scusami che non cercavo la ragazza di prima adesso sono io la tua ragazza eh hai visto quei due? si oddio che pervertiti già fortuna che ci sono ancora i ragazzi normali come me andiamo a farci un altro aperitivo tesoro ma si dai che pezzo di fortuna ciao ragazzi siamo i Madalese questa è come rimorchiare in palestra se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e arriviamo a 160.000 like wow per un nuovo video con Roberic noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche quest'oggi e ringraziamo soprattutto la nostra fantastica Roberic che ha partecipato quest'oggi con noi trovate tutte le sue info numero di telefono indirizzo di casa in descrizione c'è tutto ragazzi e niente ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video eee un saluto a Pantelliano a tutti se siete da questo punto dei video commentate con Roberricellas con 2C2R perchè? è importante porta bene ma sei sul grosso wow